Game of Thrones non è soltanto la serie fantasy statunitense riadattata per il piccolo schermo dal ciclo di romanzi cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin, ma anche l'ingarbugliata trama dell'intricata situazione societaria del potenza che ogni giorno si fa sempre più fitta ed oscura, rischiando di celare un finale a sorpresa per tutti gli appassionati. Già perché ieri avrebbe dovuto svolgersi l'assemblea secondo l'ex presidente Rosso Blu e socio dell'associazione Antonello Grignetti, al contrario di quanto invece si vince dal comunicato emesso dalla società che recita di un'assemblea regolarmente svolta in cui si è deliberata la costituzione della SRL e l'estromissione dei soci inadempienti. Ma andiamo per ordine. La porta non si è aperta, è uscito soltanto uno steward dicendo con una lettera, non so a firma di chi fosse, che per entrare c'era bisogno di mostrare la ricevuta della raccomandata. la ricevuta io l'ho mostrata, dopodiché mi è stato chiesto di documentare la quota sociale. La quota sociale io ho mandato, non avendolo in tasca, non credevo di dover dimostrare questo, la persona che ha creato questa società deve dimostrare la quota sociale, mi sembra un po' ridicolo tutto questo, e ho mandato dentro l'estatoconto della società in cui risultano i due mesi in cui sono stato presidente, risultano tutti i versamenti e le anticipazioni da me effettuate a nome anche di Michele Saponara e di Bruno Saponara. Nonostante tutto siamo ancora qui fuori, adesso abbiamo chiamato la questura il 113, vediamo di risolvere la questione in questi termini. Sulla falsariga del medico tolvese prosegue anche l'altro socio dell'associazione, Nicola Becce. Faccio passare questa battuta, è quasi a scherzi a parte, che ho ricevuto questa convocazione, una raccomandata che ho ritirato questa mattina, datata 27 maggio, mi sono presentato regolarmente alle 19.30 in prima convocazione e ho trovato qui tutta una serie di amici e il cancello chiuso. La sede dell'associazione sportiva direttandisca Potenza Calci è a Viale Marconi, presso lo stadio Viviane. Lo stadio Viviane, come potete verificare, è chiuso, sembra che è quasi chiuso a lutto, ho un ambiente dove ormai è invalicabile per noi cittadini di Potenza, viene lo straniero in casa, perché mi dispiace dirlo all'ottimo e bravo Presidente Notari Stefano fino a ieri, perché si era dimostrata una persona anche attaccata ai colori sociali, ma oggi purtroppo ha cancellato tutto di un botto, tutto di buono che si diceva su di lui. Siamo abbastanza dispiaciuti, rammaricati e in qualche maniera pure abbastanza arrabbiati. Credo che dal comunicato che è uscito poco fa a Mezzostamba, in particolar modo sul sito del Potenza Calcio, ha dichiarato che noi soci siamo stati estromessi dall'Assemblea perché in adembienti con la quota sociale, ma buon Dio, la quota sociale l'abbiamo versata più di quello che dovevamo l'anno scorso, non è stata mai stabilita in un'assemblea successiva quando era la quota sociale, quindi di che cosa sta parlando? Sta parlando del sesso degli angeli. Ci dispiace perché siamo veramente abbastanza rammaricati di questo comportamento, quindi pregherei il buon Presidente Notari Stefano di ravvedere un attimino il suo comportamento. Domani è festa, come dire, 24 ore potrebbero portarlo di nuovo a ragionare perché qui parliamo di una città del capoluogo di regione e un capoluogo di regione molto importante, è la nostra società, è la società rosso-blu di noi cittadini di Potenza, quindi preghiamo il Presidente Notari Stefano di rivedere questa sua posizione, ripeto, 24 ore e 48 ore da tempo saranno utilissime anche da parte sua, altrimenti io in primis dovrò agire per le vie legali, perché quel comunicato stampa che è uscito poc'anzi ha tutti i connotati di diffamazione a mezzo stampa. E chiosa sulla vicenda anche un altro membro dell'associazione, l'Avvocato Michele Saponara. L'intervento della questura della Polizia è stato chiesto da noi soltanto ai fini di far prendere atto della impossibilità da parte nostra di accedere allo stadio. Fra l'altro abbiamo anche verificato in possesso delle chiavi che sono state sostituite le serrature ovviamente fatte apposta. Leggiamo poi un comunicato farneticante da parte del Presidente Notari Stefani che parla di assemblea fatta, di delibera fatta e di estromissione dei soci dalla società perché non hanno versato le quote sociali. Mi viene da ridere pensando che il Presidente Grignetti fino al 15 luglio è garante di una fideiussione nei confronti della Lega Nazionale Direttanti di 31 mila euro. La cosa che mi incuriosisce, perché noi eravamo venuti solo per leggere le carte stasera, quello che mi incuriosisce è chi ha deliberato queste quote sociali, quanto sono state deliberate e di che importo sono state deliberate.